Comprare o vendere casa? Questo è un tema di cui si sente parlare tantissimo e ho pensato di dire la mia sperando di portare un contenuto di valore. Alla fine del video vi spiegherò anche come ottenere il template che ho creato per calcolare a che costo converrebbe comprare casa rispetto ad affittare date determinate supposizioni. Ben ritrovati in un nuovo video, io sono Davide, sono un consulente finanziario indipendente e nel video di oggi vi voglio spiegare come calcolare se l'acquisto di casa può essere una buona idea rispetto ad affittare. Questo può essere utile per chi ora è in affitto e sta valutando se comprare casa ma anche per chi magari sta pensando di fare un investimento e quindi comprare casa e metterla a reddito. Partiamo con una puntualizzazione, all'interno di questa decisione ci sono anche componenti emotive e totalmente personali. Qualcuno potrebbe dare molto più valore alla flessibilità e possibilità di spostarsi da una casa all'altra senza troppa fatica mentre per qualcun altro la soddisfazione di avere la propria casa e la possibilità di poter modificare la proprietà come uno voglia ha molto più valore rispetto alla flessibilità di cui parlavamo prima. Ora prima di iniziare a spiegarvi come prendere una scelta vi chiedo di lasciare un like per supportare il canale inoltre se siete nuovi sul canale potete iscrivervi cliccando sulla campanellina per non perdervi più neanche uno dei miei video. Fatte le dovute premesse ovvero che alcune preferenze personali non hanno un valore economico e quindi non sono quantificabili all'interno di un'analisi vogliamo cercare di capire a livello finanziario quale delle due scelte possa essere la migliore. Ben che si dica spesso che la prima casa non è un investimento questo è un grandissimo errore. la prima casa è a tutti gli effetti un investimento infatti attraverso la prima casa a evitiamo di pagare un affitto e b deteniamo un asset immobiliare che potrebbe incrementare di valore nel tempo. Essendo un investimento finanziario sappiamo che si potrà anche calcolare la convenienza economica di questo investimento. Come farlo? Semplicemente andando a calcolare i costi delle devozioni e un eventuale cash flow nel caso di acquisto e rivendita di un immobile dopo un determinato numero di anni da una parte e il cash flow per il pagamento di un affitto dall'altra. Ovviamente questi cash dovranno tenere in conto anche del valore del costo beneficio bloccato del cash bloccato all'interno dell'acquisto casa perché solitamente acquistando casa dobbiamo tirare fuori del denaro e questo denaro potrebbe essere investito altrove e generare un rendimento. Quindi passiamo all'acquisto della casa. Il primo punto da determinare è quanto potrebbe costarmi l'affitto della tipologia di casa che sto cercando. Dato questo numero il nostro obiettivo sarà trovare una casa che ci garantisce spese totali inferiori rispetto all'affitto. La prima domanda essenziale deve essere quanto vogliamo restare in questa casa. Questo deve essere un periodo minimo per calcolare la convenienza di rimanere in questa casa per questo periodo. Se voi pensate di comprare una casa per 15 anni ma sapete che potrebbe essere che restiate solo 5 anni dovrete trovare una casa che sia conveniente nel caso restiate 5 anni non 15 anni perché ovviamente su un breve orizzonte temporale hanno un grosso impatto anche i costi di acquisto e rivendita. Quindi più resteremo nella casa e maggiormente riusciremo ad ammortizzare i costi fissi determinati da un acquisto e da una vendita di casa. Successivamente dobbiamo decidere come comprare questa casa. Con dei tassi di interesse così bassi come quelli che vediamo oggi sul mercato può essere sicuramente interessante massimizzare l'ammontare di mutuo che possiamo prendere. Ovviamente la possibilità di ricevere una percentuale più o meno alta a un determinato interesse dipenderà dalla vostra situazione anagrafica e lavorativa. Considerato che possiamo aspettarci di ottenere un rendimento alternativo superiore a quello del tasso del mutuo sul lungo periodo sarà sempre più conveniente finanziare la percentuale più alta possibile dell'acquisto attraverso mutuo. Allo stesso modo una durata di mutuo maggiore sarà maggiormente conveniente rispetto a una durata di mutuo inferiore con i tassi che vediamo oggi sul mercato. Questi due fattori andranno ad avere un impatto sulla maggiore o inferiore convenienza dell'acquisto casa rispetto all'affitto. Infatti meno cash dovremo impegnare nell'immobile maggiore sarà il rendimento alternativo che potremo ottenere con questa ipotetica liquidità. Anche qui aprendo una parentesi la parte psicologica e personale ha la sua importanza. Ci potrebbe essere chi non ama avere un mutuo da pagare a lunga scadenza perché preferisce togliersi il pensiero del debito il prima possibile e quindi anche in caso di maggiore convenienza voglio optare per una scadenza più di breve termine. Per terminare con l'acquisto casa dobbiamo includere tutti i costi che comporta la proprietà. In particolare avremo costi connessi all'acquisto della casa e costi connessi al mantenimento della casa che sono i costi di manutenzione delle imposte sulla prima o eventualmente seconda casa. Per quanto riguarda l'acquisto casa ho inserito delle ipotesi all'interno del template connesso a questo video di cui parlavo prima ma la cosa migliore sarà aggiornare queste supposizioni una volta che avrete maggiore certezze. In particolare come costi di transazione per acquisto e vendita ho inserito notaio, IVA, costi di intermediazione, imposto di registro ed eventualmente costi di accensione mutua. Ho approssimato questi costi come costi di acquisto al 13% e costi di vendita al 2.5%. Questi sono riferiti ovviamente al valore della casa. Per quanto riguarda la manutenzione della casa ho individuato costi connessi al rinnovamento, manutenzione e assicurazione casa che ho approssimato all'1.5%. Ora che abbiamo calcolato i costi dell'acquisto dovremo pensare ai costi legati all'affitto. Questi in realtà sono molto più semplici da valutare. Infatti i costi dell'affitto sono determinati principalmente dall'affitto. Ovviamente oltre a questo dovremo tenere in conto del deposito. Anche qui maggiore il deposito minore sarà la convenienza per il valore del costo opportunità di questo denaro che resta bloccato. Adesso che abbiamo determinato tutti i costi legati all'acquisto e all'affitto della casa siamo pronti a inserire le ultime ipotesi per capire se ci convenga comprare o affittare casa. Queste in realtà sono le più complesse da valutare e si possono adottare approcci differenti. Le ipotesi da inserire sono in primis la rivalutazione dell'immobile. Da questo punto di vista un possibile approccio potrebbe essere valutare il trend recente dell'andamento dei prezzi nella propria città. Un secondo approccio potrebbe essere invece assumere un tasso di rendimento reale dell'1% che è quanto viene calcolato nel paper The Rate of Return on Everything che mostra come il tasso di rendimento medio degli immobili in 16 paesi sia stato tra il 1870 e il 2015 in media circa dell'1%. In secondo luogo dovremmo fare una supposizione sulla crescita degli affitti. Affitti maggiormente in crescita rendono più conveniente l'acquisto dell'immobile. Dopodiché dobbiamo chiederci quale potrebbe essere un rendimento alternativo che possiamo ottenere. Questo deve essere un rendimento realistico. Non possiamo pensare di prendere questa scelta basata su tassi di rendimento alternativi eccessivi. In particolare dobbiamo pensare a un tasso di rendimento facilmente ottenibile. Oggi i mercati hanno valutazioni molto più elevati rispetto a dieci anni fa per cui non possiamo aspettarci gli stessi rendimenti che abbiamo visto negli ultimi dieci anni. Un possibile rendimento alternativo conservativo oggi può essere tra il 3 e il 5% a seconda dell'inflazione che andiamo a inserire nel nostro modello. Infatti l'ultima supposizione deve essere sull'inflazione futura. Che possiamo pensare in questo contesto possa essere intorno al 2% nell'area europea nel corso dei prossimi anni. Sicuramente ora l'inflazione è più elevata ma l'Europa ha sempre avuto problemi a raggiungere il target del 2% quindi nel complesso un 2% nei dieci anni mi sembra una supposizione abbastanza realistica. Un'ipotesi sul tasso di inflazione ci serve per due motivi. Un'inflazione maggiore porterà a un incremento dei costi di manutenzione e dall'altra parte gli investimenti potrebbero avere rendimenti nominali superiori e il valore reale del debito che abbiamo preso potrebbe diminuire. A questo punto il mio modello vi calcolerà cosa è più conveniente fare tra comprare casa ed affittarla. Se siete interessati in descrizione e nel primo commento pinnato vi lascio un link per richiedere il template che vi permette di calcolare il prezzo per cui vi converrebbe comprare casa rispetto ad affittarla. Fermo restando che tutte queste supposizioni sono scelte che in qualche modo uno deve prendere. Fatemi sapere se avete qualche domanda rispetto al video di oggi lasciando un commento. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un like per supportare il canale. Inoltre se siete nuovi non dimenticatevi di iscrivervi cliccando sulla campanellina per essere notificati quando rilascio un nuovo video. Grazie a tutti quelli che sono rimasti fino alla fine del video. Siete i migliori e noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao.